e bello ragazzi e benvenuti in questo nuovo video io sono cuore e oggi nuova intro nuova intro comunque volevo portare bull grado 18 perché taglia e poi portarla al 20 ma al 20 vedremo poi in futuro comunque adesso andiamo la intro bene questa era la nuovissima intro che mi dimenticherò per sempre di far vedere comunque o perfetto non c'è nessuno che ci può assidiare comunque vedete laggiù le tre cassette eccole volevo avanzare perché poi wolfie verrà a casa mia però non faremo un video insieme perché lui è una di quelle persone che non vuole essere messo su youtube e quindi non lo rivedremo però ci ha consigliato una mappa su roblox anzi sei mappe per roblox che andremo a fare comunque ho tre power ups e non ho paura di usarli qua c'è qualcuno ok eh aveva paura cavolo però sono rimasta con poca vita poca però 5 power ups e 7 brawler rimanenti mi potrebbero far comodo questi power ups comunque la c'è una scelle ormai l'ho vista c'è una pam che ha quattro power ups vediamo se c'è qualcuno che lo possa eliminare sapete che ieri ragazzi non riuscivo a vincere mai c'è proprio mai allora qua lo sapevo no non ho potuto dire dire meno uno siamo rimasti a 400 troffa i gombulli la cosa più ridicola del mondo bravo comunque allora ma mi puoi lasciare prendere sto power ups del bravo grazie shelly uh è stata dura me ne vado è mia ragazzi non so com'era però ho poca vita ho poca vita no no io non si lo faccio muori ok ho quattro power up oddio ma qua siete fulminei io resto qua basta campero no perchè anche gli altri possono camperare quindi oh ragazzi ho paura ok ok sono contro un bull ok madonna vabbè più 8 raga più 8 più 8 non è male per portarlo a 18 nel prossimo episodio lo porterò al 19 bro è mio fatene una ragione shelly è mio dabbè no no è mio chiaro bull sì ma dai raga ma dove è sto piangendo allora signor bull tipo vinciamo una partita santa una partita brava shelly hai capito tutto allora io ho paura che l'audio non si senta quindi ragazzi ditemi qua sotto nei commenti se non sentite il mio audio ok eh volevi eh mi ha colpito lo stesso eh allora so che di qua c'è un altro bull lo sapevo allora ragazzi di qua c'è un bull che sinceramente no no ragazzi stavo per fare la mossa della vita ok vero dai manca poco al 18 l'ho detto come una capra no è mio è mio mi dispiace no 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 madonna mi sto agitando ragazzi non ce la faremo mai non ce la faremo mai sì sì di qua c'è un altro bull no no potevo approfittarle ok raga raga per un attimo ce la siamo vista brutta però però yeah quello è il primo sa scappare e anche col stile che altro in aria vorresti 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 Raffredda gli impulsi Siamo contro la baby E abbiamo vinto E la vince Ragazzi mancano Quattro coppe E poi questo video finirà con Stile Di sicuro Non l'avrà visto nessuno Quindi se l'avete visto Tutto dovete Dovete Scrivere hashtag Non ti ho sentito Anzi hashtag Cuore fai schifo Ecco quello Uh però qua Ragazzi qua facciamo la vita Ma guardate quante Cassette Me ne frego del bombardino E ora sono pronta Comunque Consiglio amico Mai portare bombardino in sopravvivenza Perché io ti faccio secco Con bombardino Aia Sono in trappola Eh devo scappare Devo scappare Devo scappare Cavolo 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 Oh cavolo guy Me la sto rischiando Me la sto rischiando eh Però Oddio raga Misericordia No Comunque vediamo un po' più 8 Grado 18 Ho fatto anche rima Comunque ragazzi Più 20 Trocope Dai una cassetta se l'apriamo Ok Comunque Il video di oggi si conclude qua Era un po' di 10 minuti E lasciate like Commentate E sigla finale Adio